I premi Oscar Meryl Streep e Goldie Hawn nei panni di due donne prossime ai 50 anni che ricorrono ai filtri di una strega, Isabella Rossellini, per rimanere eternamente giovani. Umorismo nero, travolgente e strepitosi effetti speciali, premiati agli Oscar e definiti dalla stampa specializzata americana Diabolicamente Innovativi, una della commedie più riuscite di Robert Zemeckis.